5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 dai vieni continua eccolo lì ok ci siamo dai, due dai li gira dai tira, dai li dai li e' lui che deve iniziare e' lui che sれ sfatate dai ok c'era il cugino di Beppe perché avevamo trovato la tua è lì quel ragazzo che sta col telefono diretti e chassè diretti e chassè diretti ok quando è così va bene sto facendo lo schermo se volessi capire lo schermo se ho premito è andato un po' però un po' super grande viene, viene, così dai bisogna gestirsi bravo